Sì, sì, sicuramente una vittoria meritata da parte loro, non siamo riusciti a fare la partita che volevamo, soprattutto sotto l'aspetto dell'energia, perché non possiamo permetterci di iniziare una partita senza questa carica emotiva che deve essere una nostra caratteristica. Abbiamo avuto, secondo me, una buona reazione nel secondo quarto, dove ci siamo riavvicinati, siamo andati anche a solo le quattro lunghezze, però nel momento in cui dovevamo fare due difese di fila non siamo riusciti a farlo e loro, dopo, meritatamente, sono andati avanti. Dobbiamo, come al solito, ricominciare a lavorare, ritornare, sapendo che la nostra base deve essere la difesa, non possiamo permettergli di subire 27 punti nel primo quarto. Stiamo lavorando bene, nel senso che non abbiamo bisogno di lavorare su qualcosa in particolare, dobbiamo continuare a creare la nostra identità, continuare a lavorare sulla difesa, continuare a lavorare per trovare buone soluzioni in attacco e dobbiamo andare avanti con grande fiducia perché fino adesso abbiamo fatto delle prestazioni sempre basate su una buona solidità e non deve essere questa partita a farci cambiare la rotta, assolutamente. Questo è il bello e il brutto del campionato italiano, si può vincere contro la prima in classifica e si può perdere con l'ultima senza problemi. Noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo guardare né dietro avanti, dobbiamo semplicemente andare avanti con la nostra identità. Prendere degli insegnamenti e la partita di oggi, soprattutto sotto l'aspetto dell'energia e di quello che abbiamo preparato durante la settimana e basta, con serenità guardare a noi stessi.